visto che anche io in questo periodo debba dare la mia testimonianza e da dieci giorni che sono a casa in quarantena e in questo momento non ho non ho per niente paura del coronavirus l'unica cosa che mi spaventa è me mogliere un ciaffazzo la mattina sera e levati qua e mettete dai come a mangiare come a cucinare rossaccia aspirapolvere aiuto voglio a me magi